Grazie Presidente. Nella seduta odierna sono stato espulso dall'Aula. Pensavo, Presidente, che si trattasse di un evidente errore di persona, constatato credo da tutti all'interno dell'Aula, perché la Presidente Boldrini si è rivolta verso il mio collega Tofalo chiamandolo Bonafede. Nonostante ciò, quando nel pomeriggio stavo per rientrare in Aula, mi è stato detto che invece ero stato proprio espulso dall'Aula. Successivamente sono stato autorizzato a rientrare perché, come relatore del provvedimento sull'azione di classe, la Presidente Boldrini ha ritenuto di autorizzarmi e di concedermi la possibilità di rientrare. Quindi presumo che addirittura potrebbe essere combinata una sospensione nei miei confronti a seguito di un'espulsione che quindi è stata in qualche modo confermata dalla Presidente Boldrini, nonostante l'evidenza dei fatti dimostrasse che si trattava proprio di un errore di persona. Per questo, Presidente, io oggi mi ritrovo quindi nell'Aula per concessione e autorizzazione della Presidente Boldrini. Ma poiché io ritengo fermamente che la presenza di ogni deputato della Repubblica qui dentro, l'intervento di ogni deputato della Repubblica qui dentro, sia un diritto di ogni cittadino italiano e non una concessione della Presidente, io chiedo che i video e tutto ciò che in via documentale attiene alla mia espulsione di oggi sia acquisito dall'ufficio di Presidenza per valutare le ragioni della mia espulsione. Grazie. Grazie. La Presidenza prende nota di questa sua richiesta. Onorevole Burtone.